Mamma mia, adesso che avevamo superato quella roba lì ci fermiamo, adesso ce lo ribecchiamo ancora Infatti non ci conveniva andare E vabbè ma adesso cazzo lì rimaniamo bloccati con quello lì Questa è una pausa, questa è una pausa, questa è una pausa, questa è una pausa Maimayo? Maimayo, qual è il nome? Mi nome è Patrick, molto bello con te, molto bello con te Grazie a te, molto bello con te Grazie Cosa che vuoi? Non c'è un po' di spettacolo, non c'è un po' di spettacolo Cosa forse è? Cosa è un po' di spettacolo Cosa è lì? Cosa è lì? Cosa è lì? Cosa è lì? Grazie. Quale tipo di acqua è? Rosso. Stiamo facendo un uccolo. 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 Maimai. Scorchio. Sac St Generale. ğ Cheıyor? Algo! 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 Algo. Grazie. Grazie. Sì, se possibile sì. No, no, no. Che cosa chiede? Cosa? Sì. Siamo qui? Siamo qui? Siamo qui? Siamo qui? Sì. Sì, se posso andare via? Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.